Proseguiamo con variazioni sul tema L'Alzio Stemberger. In una serata dedicata all'eccedenza della musica del mandolino, non è questa, il maestro Augusto eseguerebbe delle composizioni più affascinanti e impegnative composte per questo strumento. Di Antonio Ringeri, tema e variazioni di sonno minore, L'Alzio Stemberger. L'Alzio Stemberger 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.